Adesso voglio fare qualcuna su Berlusconi perché siccome ci sono i gamberisti e i nostri argomenti non li capiscono, non li conoscono, allora facciamo su Berlusconi per far contenti anche loro. Quest'anno Berlusconi ci ha fatto sorpresa doveva venire con dieci gambe a gamba tese e ha detto che è nascosto al palazzo Graziole, ha detto che è nascosto al palazzo Graziole, sempre su Berlusconi. E' nascosto al palazzo Graziole, sempre su Berlusconi. Oh mio caro Berlusconi sappiamo che tu hai propositi buoni. Tratti bene la gente e ti grippi, peccato che rubi ai poveri per dare ricchi. Infatti peccato che ti grippi, tu rubi ai poveri per dare ricchi. Ma rubi come rubi, rubi Cazzanna. L'ultima su Berlusconi. E' vero che già da ragazzino ti piace nel caffè? Marrocchino, ma che sei anziano la mattina preferisci la marrocchina. Ora che sei anziano la mattina preferisci la marrocchina. Giallo, ma sono città, cosa fai? No, no, stiamo facciando ieri per le pasta. Marrocchino, ma che sei anziano la mattina preferisci la marrocchina. Ma che sei anziano la mattina preferisci la marrocchina. E' preso il sindaco. Cari camperisti, facete una cortesia. E a questa portata voi in Lombardia. A cucicare caldo e l'olio e che boss. Fa una gara, a chi spara e chi un ross. A cucicare caldo e l'olio e boss. Fa una gara, a chi spara e chi un ross. Ma dobbiamo... Sapete che al campanese siamo... No, no. Io sto fusi. Ha rifatto il piano del traffico. Emiliano dei problemi, può viaggiare. Ti ama che la baciorella è a po' parcheggiare. Ti sono un problema quando c'è la traccia. Perché i palli che contano prima tranne sci. E' un problema quando c'è la traccia. I palli che contano prima tranne sci. E' un problema grave per i parcheggi. Lui si troverà costretto dopo quest'ordinanza comunale ad aiutare un membro della sua futura famiglia. Hanno fatto quest'ordinanza e già da principio. Se sapeva che c'è la parcheggi. E' un coppumono cibi. Io e il ciappa, ma non ho mai avuto manca l'occasione. Però mi dispiace, Pantone e Marrone. Io e il ciappa, ma non ho manca l'occasione. Però mi dispiace, Pantone e Marrone. E per cinque volte è stata buttata. E cinque volte un traffo che ha cagnato. Ma guarda che ormai tutta la gente lo sape. Dopo una settimana stiamo puntata a capo. E tutta quante la gente lo sape. C'è la truama puntata a capo. A Gambanesa siamo tutti bravi ragazzi. E vi racconto un episodio che è successo a quattro di loro. Che sono molto bravi e hanno fatto beneficenza. Gennaro Ruzzelli, Donnie Pastorelli, Donnie Valente e Luigi Venditti. Se dici che siamo tutti più buoni a Natale. Ci scambiamo i dopo, nei regali. Infatti quel, a notte Natale. Se non buscati, faccia di fare. Infatti quel, a notte Natale. Se non buscati, faccia di fare. Questa la voglio fare sul nostro amico Luca. Come va? Luca è lui. È lui. Luca. Quanta patente da Natale. Se non è accorto, che è una sbagliata. Una maga, una piglia, una nave da l'ascia. Si è distrutta, che un maga non è, non è, non è, non è, non è. La mia figlia è una nave da l'ascia. Si è spasciata, che un maga non è, non è, non è. Questa sono realizzata, se sposa un principe di Monte Carlo e quello di un regno unito. Infatti voglio stamattina a settembre morire, ma sposa una regina. Infatti voglio prima settembre morire, ma sposa una regina.